Terza corsa in programma a Dagnano, quattro anni sul miglio, non corre il numero undici l'Enfant di Gaia. Sul Latin Lauer Ponce numero due sale Raffaele Forino in sostituzione di Vippi dell'Annunziato. Liberabella Rex rinuncia alla partenza, è addirittura in terza fila, e il leader Giffa rassume subito l'iniziativa alla corda Lothar Weiss. In terza posizione si va a sistemare, anzi in seconda, l'UNESCO Mosul, la rottura di Lothar Weiss. Duecento in quattordici secchi, con leader Giffa a comandare, sull'UNESCO Mosul, terza posizione lungo Tevere a C. Il primo quarto in 31, adesso tenta di rallentare, leader Giffa, e provoca l'avanzata esterna di Lagerfeld B. Si muove anche Antonio in proda con Lemon, si muove le Figaro CT. Nel frattempo, dopo 600 in 46 e qualche linea, Lagerfeld B raggiunge leader Giffa. Ottocento, con i due completamente apparigliati in 1 e 3. Completata la curva, Lagerfeld ritorna la carica e prevale sul leader Giffa. Il chilometro di Lagerfeld B in 18 e 3, inseguito da l'UNESCO Mosul e Lungotevere a C, poi Lemon e le Figaro CT. Tre quarti di miglio. In 1.33 e mezzo, ultima frazione in 15, con Lagerfeld intento a respingere l'UNESCO Mosul, poi Lungotevere e Lemon. Retta d'arrivo, con Lemon che sbanda verso l'esterno, poi torna in gareggiata. All'interno, Lavamidiff, Lemon e Lavamidiff vanno su Lagerfeld B, Lemon sembra prevalere. A 50 dal palo, passa Lemon, mentre per il secondo è Lavamidiff a prendere la meglio su Lagerfeld B. 2.5 e mezzo, affermazione di Antonio in proda. Il Lemon, figlio di Indropark e Zenifer, che ha prevalso nei centofinali, per il secondo Lavamidiff su Lagerfeld. Quindi arrivo probabile ed ufficioso e 12 di Lemon, 10 di Lavamidiff e...